Questo vuol dire che le siamo piaciuti? Non vedo controindicazioni, ma dovete rendere la casa a prova di bambino se restate qui. Ah, sì, certo. Oh, avete una foto del matrimonio? Le autorità etiopi la richiedono nella documentazione. No. Sì, ce l'abbiamo. Certo, amore. No, amore. Sì, invece. No. Credo che sia proprio qui. Las Vegas. Matrimonio in costume. Io ero prince, ho lì una showgirl. Lui adora Purple Rain. Diciamo che è andata bruciata in un incendio. Bella scelta. Tenga. Grazie.